L'antico, antico, è un ultimo, fa capirlo là, lasciamo a rimanere a portarlo in palestra stasera. Allora il colore è proprio qui, che la città per limitizzarsi contro i predatori. Tutti i colpi, i lupi, che potrebbero più male, il Pitellino mentre nasce, infatti, quando questo non è vero, e quindi cosa sta facendo, lo fanno correre, il soggetto corre lungo la pittagna, vedete, lungo il padino, in questo caso Marco sta facendo la figura del Nenarino, e poi il nostro, guardi, dai, c'è una bella sfida al corso tra Massimo e Vincenzo, vediamo lì meglio l'uno dell'altro, e la corda va tra le orecchie e le corna, quindi è un tiro di precisione. Eh, quando sono più grosse, quando sono piccine così. Si prende anche dove si figlia, si figlia, via Massimo. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Che vedete la paura, a volte, o sbloccano o incorrano o scappano, e ognuno ha la propria reazione. Ah, eh. Eccola. Eccola, eh, ce ne barna troppo piccola nelle scappatia. Mu', con una piccola senza corna, da lei. Ah, ah. hanno visto che c'era qualcosa che non andava quindi hanno dovuto per forza isolarla dal resto del branco per fare lo sbrancamento e controllarla piano